...e c'è il posto Messi, portato il tiro a Rema! Gran gol di Messi, prima gol, soluzione! Messi, Messi, Messi! Gran gol di Messi, 2 a 0! Schiavi, l'avventura, attenzione, posizione elevare, eccetera il segolo! Gol di via! Attenzione, Abbiati, battuto, 4 a 0! 4 a 0! Jordi Alba fa esplodere il campionato! Perchè ritorno a casa dopo 4 anni? Bentornato a casa, Ricchi! E' come l'euro! Perchè ritorno a casa, Ricchi! Pitocino a casa, Ricchi! Cataluan a casa! Grazie a tutti. Grazie a tutti.